Ogni anno il secondo giovedì di ottobre viene celebrata la giornata mondiale della vista, un modo per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo la prevenzione dei disturbi visivi. Ieri nella sede della sezione provinciale di Agrigento dell'Unione Italiana dei Cecchi e di Povedenti si è svolto un dibattito incentrato sui giovani. Non avendo come si comprende che viene celebrato in tutto il mondo, non solo ad Agrigento, per sensibilizzare la società ai problemi delle patologie oculari. Ogni anno ha un tema, l'anno scorso gli anziani, i bambini, quest'anno i giovani e soprattutto i giovani alla guida. Questo è il tema di quest'anno. Nell'ambulatorio oculistico dell'Associazione Agrigentina è stato erogato il servizio di screening oculistico in favore dei partecipanti all'incontro e di tutta la cittadinanza interessata. Tematiche interessanti quelle dell'incontro che hanno riguardato in primis i giovani e la sicurezza alla guida. La prevenzione svolge un ruolo sicuramente fondamentale, quindi prima di mettersi alla guida, tutti i ragazzi giovani, quindi soprattutto dedicate ai giovani, è stato consigliato di effettuare degli screening oculistici. Infatti di là abbiamo pure il nostro oculista che oggi sta effettuando gli screening e poi sono state date anche delle indicazioni su quelle che possono riguardare invece l'utilizzo, per esempio, delle lenti a contatto, quindi norme di sicurezza, di igiene, per evitare patologie ad essere associate. Quali sono i sintomi che principalmente emergono inizialmente? Sì, non sempre c'è una sintomatologia legata ad una patologia, però quando ci sono, per esempio, correlate ad un vizio di rifrazione, quindi la miopia, l'astigmatismo e l'ipermetropia, in quel caso ovviamente è una visione offuscata oppure disturbi come il mal di testa, nausea o vertigini. Nel caso invece di patologie, per esempio, associate all'utilizzo scorretto delle lenti a contatto, invece ci potrebbero essere bruciori, rossori agli occhi o secrezioni, eccessiva lacrimazione, quindi in questo caso è ovvio che bisogna andare sicuramente dall'oculista.